Allora, per settimana sport, Gatto, hai fatto tre gol, sei stato veramente molto bravo e grande vittoria della Pra. Finalmente si è riusciti a portare a casa tre punti dopo la prestazione di domenica scorsa a Sabona, dove per 75 minuti abbiamo seguito bene il campo, ci volevano i tre punti per noi, ogni partita, domenica prossima in stagione di ritorno, in ogni partita, per noi deve essere una finale, da dentro fuori. Ora abbiamo lo speranza, qua a Pra di nuovo e bisogna fare altri tre punti e continuare su questa strada e iniziare bene il giorno di ritorno. Ecco, ho visto che veramente quando giocate da squadra, da collettivo, siete veramente molto bravi. Oggi avete fatto veramente una grande partita. Oggi sì, ci è riuscito quasi tutto bene, poi tra noi comunque siamo una squadra che gioca, che continua sullo stretto, poi ci conosciamo, abbiamo la squadra di amici e tutto quanto, però sta andando bene dal paradassi. Bene, grazie Gatto e complimenti. Grazie a voi.